Sono trascorsi 25 anni di attività per il Coro Regesta Cantorum di Piedimonte Matese che resiste come poche associazioni in Italia. Professionalità, passione ma anche il duro lavoro sono il segreto di questi primi anni di vita, numerosi concerti in tutta Italia e numerose strutture come quelle carcerarie per fini benefici. Noi abbiamo sentito per la speciale occasione il Presidente della Regesta Cantorum, Salvatore Rossi. Presidente, 25 anni non sono tanti ma nemmeno pochi. Ecco, innanzitutto quando nasce esattamente? Nel 1998, gli inizi di settembre del 1998. Come nasce l'idea di un coro qui a Piedimonte? Perché praticamente non vi è un modo più economico di praticare la cultura, perché la differenza fra la nostra associazione ed altre è che noi non dobbiamo organizzare gli spettacoli di artisti esterni, ma siamo noi stessi i protagonisti. Quindi dobbiamo studiare. È un modo per praticare la cultura in prima persona. Salve Presidente, c'è stato un momento, cioè una location, una città dove voi siete andate e che particolarmente l'ha colpita? Il concetto che ci ha colpito di più, senz'altro, è stato il primo che abbiamo fatto alla RAI, perché noi ne abbiamo fatti tre alla RAI, a Napoli. Il primo faceva impressione perché eravamo i sette cori più importanti della campagna, l'orchestra Scarlatti, prove difficili, insomma una certa emozione. Avete anche vinto dei premi? Sì, abbiamo vinto qualche premio, abbiamo molte targhe, coppe, eccetera, eccetera, ma noi non facciamo per vincere i premi. Abbiamo vinto il premio Olmo per la diffusione della cultura, per esempio. Non siamo qui per vincere i premi, noi siamo qui per diffondere la conoscenza della musica, come mezzo di elevazione culturale. So che siete anche andati, per esempio, nelle carceri. Esatto, con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbiamo un progetto per fare i concerti nelle carceri. Siamo stati finora in 19 carceri, tra le più importanti e le più grandi d'Italia. Ecco, qual è stato poi entrando nelle carceri il vostro contributo? Che cosa avete capito? Noi, quello che abbiamo capito nelle carceri, perché un direttore di un carcere mi disse se avete successo qui vuol dire che è un mero successo, perché i carcerati se non piace lo spettacolo se ne vanno e se ne possono andare perché è un loro diritto. Invece abbiamo avuto sempre un grande successo nelle carceri, perché il carcerato capisce che noi non siamo Gianni Morandi, Albano, che andiamo lì per farci la pubblicità, noi andiamo lì per loro, perché noi non dobbiamo vendere i dischi, non dobbiamo far dire che siamo andati nelle carceri. Noi ci andiamo per loro e ci siamo trovati sempre bene. Quali sono i vostri programmi futuri innanzitutto? I programmi futuri, io dirò questa frase di Santa Cosini, il futuro non esiste. Il programma futuro è continuare così, cioè continuare nella gestione regolare e nell'osservanza della legge, che era uno dei propositi che noi ci siamo proposti quando abbiamo fondato l'associazione, di essere in regola con la legge. Infatti noi siamo, come forse le dicevo prima, una ODB, Organizzazione del Volontariato, che è il tipo più senza scopo di lucro di tutti i tipi di associazioni che ci sono in Italia. Quanti sono gli elementi che convocano il coro? Attualmente circa 30. E si tratta di tutte le estrazioni sociali? Non solo, ma anche di tutte le età, perché accanto a anziani come me ci sono anche giovanissimi e ci sono poi giovani che sono anagraficamente giovani, ma stanno da molti anni nel coro perché hanno cominciato con le voci bianche. Perché noi avevamo una scuola di voci bianche gratuita per tutti i bambini del territorio. Quindi possiamo anche dire che è un luogo di aggregazione? Esatto. E questo è un luogo di aggregazione attorno a una cosa da fare insieme. Perché il coro questo è. È rinunziare alla propria individualità e mettere il proprio talento, o poco o molto che sia, a servizio degli altri. Perché quello che canta un coro non lo può cantare un solo cantante. Quindi è uno scopo che si può raggiungere solo tutti insieme. Prossimo impegno. Il prossimo impegno è il concerto del 25esimo, che sarà il 23 settembre, proprio qui all'Auditorium Riveva San Severino, a Largo San Domenico.